musica 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 ok bello a tutti ragazzi sono il gizios e oggi siamo qui su the kaizo covers insieme a cc dovevamo registrare anche con squit 00 purtroppo non mi risponde cioè è tipo morto e quindi ci raggiungerà a breve cioè appena appena resuscita dai morti l'ultima volta eravamo andati di qua cc doveva questa volta invece dobbiamo andare da quest'altra parte che ci sono tanti scheletri come hanno fatto spawnare tutti sti scheletri oh hanno droppato un arco se lo vuoi cc si anche perchè la spada sta facendo aspetta togliti dalla ghiaia perchè oddio togliti guarda che casino guarda sopra vedi che c'è altre ghiaia no è mio sotto no no oddio eccola lì la lava eccola lì eh oddio no non sblocchi neanch'io sono tutti blocchi di sce aspetta un attimo vieni qua con me so come risolvere vieni qua con me postiti da qua questi blocchi qua sopra vedi questi non sono silafish io vado un attimo a chiudere il casino della lava 9 9 9 oh ne è caduta ancora si ho visto ma non dovrebbe esserci la lava eh ma dobbiamo chiudere la funca eh se no eh devi salire da lì qua c'è lava? si si oh dio oh cazzo ho preso fuoco perchè c'è della ghiaia? perchè è della ghiaia qua? come facciamo a passare ecco aspetta io rompo io rompo questo blocco bisogna riuscire aspetta faccio questo ce la posso fare bisogna essere solo ecco per chi mi ha spinto mi hai spinto no non riesco a piazzare lì perché no cosa è successo che era il piccolo che è andato da solo cavolo non riesco ok forse ho chiuso no no ho chiuso via 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 bisogna avanzare piano piano ho chiuso non riesco a chiudere ecco mi ha allargato no no ecco tutta la roba no 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 non voglio morire non voglio morire non voglio morire guarda ho iniziato un tunnel sono riuscito a fare una cosa meravigliosa peccato che sia morto ma di quale hai fatto il tunnel si a destra a destra ho chiuso la lava a sinistra e se scavi inizia l'amore si ma io ce l'ho riuscito a iniziarlo oh cazzo perciò eh passiamo di nuovo passiamo di nuovo no ma tranquillo che qui mi ha ancora come fa a scendere ancora sta lava eh guarda che io ce l'avevo tutta la vita eh guarda che ce l'avevo tutta e dire in cambio bene 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 no aspetta aspetta 3 cuore e mezzo due cuore e mezzo ok come questa lava qua è ferma così ok ma la pressure plate non la posso rompere no no non romperla tiene su tiene sulla ghiaia praticamente ah e non ci cade in testa la ghiaia quindi ok ok ci siamo ci siamo abbiamo fatto braccia quanti grandi però tu non ho fatto un impulso occhio occhio che c'è lava lì oddio ecco perfetto no no la roba la roba la roba la roba la roba finisce c'è si lo prendi la roba avevo avevo niente si è salvata la mia armatura ok almeno faccio meno di si tutta te la lascio qua in un angolo che vi ok qua qua devo tappare così ok adesso non ci sia più lava ok oh flash pit rom rotta perfetto ma magari possiamo recuperare dell'arenario no no questa non è questa no ok direi che ci siamo hai del cibo ehm aspetta un attimo potions loo una scaletta forse è un'intersezione questa si no no aspetta c'è c'è aspetta oh che cosa è passato uno zombie in armatura o sbaglio? si ma questo qua è il dungeon quello ilvern of cover ah qua ci sono delle pozioni c'è c'è però lasciamolo qua lasciamo qua occhio che tutti i blocchi intorno sono silverfish ho metto una torcia c'è un'altra scala eh ci porta fuori praticamente quella lì è il punto sicuro e qua invece è il punto non sicuro creeper bello immagino siano silverfish si sono sicuro e quindi possiamo entrare nel dungeon occhio occhio eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua dobbiamo risalire cecce no cecce resisti sono finito nel dungeon oh cazzo sono finito entrati dal ultimo ehm ehm sono in una zona un po' particolare ehm ehm anche perchè quando decchi silverfish bam secchio di lava ok li sto portando via dal loro dominio ah sono caduti nooo ho perso il piccone vabbè sono caduti ancora un po' un po' lì sta decimando la lava un po' sono caduti ok ok forse abbiamo risolto l'emergenza simboli no no un attimo un buon monte ehm ad esempio c'è il gare fish eh no eh no deve essere materiali oi cazzo ci smaterializzato no non ci credo ci smaterializzato il blocco più che serviva Ok, ok, ragno, 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 ragno. Ok, calm, calm, calm for ti. Ok, in discoletana. Ok. No, ho un cuore laggiù Ok, chiuso Oh, cazzo Voi folli Voi folli non avete letto il micopione Ecco perché non recitate come previsto Dio mio, ma quanto è pazzo questo qua Non è colpa dell'autore Voi attori egoisti siete gli unici da riesimare Voi folli Voi folli Di che diamine sta parlando questo tizio? È tutta colpa vostra Siete fuori No, sei tu che sei fuori Effettivamente Diamoci dentro, mega L'ottava onda In onda Sì, è leggermente pazzo Darfanto, mi sarei dire Cazzo, i miei